Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, si è appena conclusa la Dakar 2020 e finalmente abbiamo un vincitore di questa competizione, è il californiano Ricky Brabeck che è riuscito a capitalizzare il vantaggio che aveva nelle ultime tappe della Dakar, anzi nell'ultima tappa è riuscito addirittura ad aumentare il vantaggio che aveva con il suo inseguitore dell'Ausquarna Quintaniglia e per cui ecco la vittoria che ha avuto su questa Dakar è una vittoria netta. La tappa di oggi vede vincitore Corneco Florimo il cileno della Honda, dopodiché è arrivato Ricky Brabeck solo con 53 secondi di ritardo, poi terzo Toby Price con 2 minuti e 25 secondi, soltanto quinto Quintaniglia che ha preso 3 minuti e 23 secondi da Corneco Florimo. Ecco parliamo due parole a proposito del vincitore Ricky Brabeck che ha fatto il suo debutto alla Dakar nel 2016, ecco sempre nel 2016 arrivò nono per cui un ottimo risultato, nel 2017 vinse una tappa e poi nel 2019 mentre quindi all'altra tappa mentre era solitamente al comando della Dakar ruppe il motore per cui una grande delusione che verrà soltanto compensato dalla vittoria odierna della Dakar 2020 per cui insomma siamo veramente felici per lui, credo che se lo sia ampiamente meritato. È il primo statunitense a vincere la Dakar non solo, è il primo americano, ecco fra America del Nord, Centro e Sud a vincere una Dakar. Chiude la Dakar con 40 ore, 2 minuti e 6 secondi, il secondo è Pablo Quintaniglia del Cile con la Usquarna che comunque ha fatto un'ottima gara e io non so se il gruppo KTM che ha di proprietà anche la Usquarna puntava allo stesso modo con Usquarna e KTM ma ha fatto sta che qui Quintaniglia è riuscito a battere Toby Price e a dargli anche un notevole distacco perché Quintaniglia è arrivato con 16 minuti e 26 secondi da Bravec, Toby Price che è stato sì sfortunato ma è stato anche aiutato proprio dalla Usquarna e è arrivato con 24 minuti e 6 secondi. Quarto José Corneco della Honda sempre cileno 31 minuti e 43, Mattias Walkner l'austriaco della KTM con 35 minuti, Luciano Benavides 37 minuti e 34 secondi, l'argentino della KTM, Joan Barreda dalla Spagna 37, 50 minuti e 57 per cui un notevole distacco e poi la prima Yamaha, Franco Caimi dall'argentina con 1 ora e 42 minuti e 35 secondi per cui un notevole distacco ma comunque è arrivato nei primi 10 per cui è stato un ottimo, un buon risultato anche per la Yamaha. Poi abbiamo Skyler Ouse che è arrivato nono ma ha fatto un risultato incredibile perché aveva sì una Usquarna ma di un privato, privata per cui non ha avuto aiuti, non ha avuto l'assistenza che poteva avere la squadra ufficiale e sicuramente non aveva neanche l'aiuto delle altre squadre ecco delle squadre ufficiali. Per cui ha chiuso con 2 ore e 4 minuti e 1 secondo, veramente un'ottima prestazione e poi abbiamo Andrew Short che è quello che ha aiutato, Toby Price che è arrivato con 2 ore e 10 minuti in 40 secondi per cui anche lui anche se fa parte della squadra ufficiale ha fatto un ottimo risultato considerando il fatto che ha aiutato Toby Price e gli ha dato la ruota e poi lui è rimasto con il cerchione. Non avrebbe sicuramente vinto ma va detto che comunque ha fatto un'ottima prestazione. Ecco parlando della Honda, la Honda torna a vincere dopo 31 anni la Dakar, la KTM vinceva da 18 anni consecutivi, ricordo che il primo della KTM a vincere una Dakar è stato proprio il nostro Meoni che l'ha vinta nel 2001 e poi consecutivamente ecco la KTM ha sempre vinto per 18 anni. Ecco vorrei anche ricordare Paolo Consalves che è morto durante il portoghese che correva per una squadra, la Hero, per un'azienda la Hero e che è morto, è deceduto proprio durante la gara della Dakar e poi vorrei anche ricordare che nell'undicesima tappa, cioè la penultima, si è fatto male e seriamente Edwin Stravere che è un olandese ed è messo non bene. Ecco ora è l'ospedale e speriamo che possa recuperare e tornare in salute al più presto possibile. Io a questo punto vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!